Buongiorno, sono il dottor Zanna, sono medico chirurgo e mi occupo di chirurgia orale maxillofaciale da oltre 30 anni. Grazie alla grande dinamicità di questa giovane azienda italiana che per prima a livello internazionale ha compreso la necessità di creare una ambientazione chirurgica adeguata e consona quelle che sono le esigenze della chirurgia orale che normalmente, rutinariamente viene affrontata in ambito libero professionale, quindi in strutture odontoiatriche generiche. È così nata Handysurgery, una linea completa di arredo ed attrezzature studiate proprio per la sala chirurgica odontoiatrica. La caratteristica principale saliente di questa linea è data dal fatto che ogni componente è realizzata in acciaio inox. Sappiamo benissimo che in ambito medicale, chirurgico in particolare, l'acciaio inox è il materiale d'eccellenza, ovviamente per la prima caratteristica che è quella della facilissima igienizzazione, quindi chiaramente una caratteristica estremamente utile nell'allestimento e nella manutenzione delle sale operatorie. Altro aspetto sicuramente non fondamentale, ma che comunque ha la sua relativa importanza, è anche l'effetto estetico. Ovviamente bisogna anche considerare appunto che un arredo completamente realizzato in acciaio inox dà all'ambiente stesso una immagine di pulizia, di professionalità e anche proprio di estetica pura, sicuramente superiore a quello che si ottiene con i normali materiali utilizzati nell'allestimento di normali studi odontoiatrici. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a tutti.